Eccoci qua signore, la commissione ha decretato Man of the Match battaglia come giocatore della partita che adesso ringraziamo lo sponsor per Man of the Match, Lothair Mirafiori Vieni battaglia, vieni, tanto facciamo già la prima intervista Allora, questa è l'impressione della partita, partita combattuta Una bella partita combattuta, non ci sono stati, secondo me, grandi episodi che a volte si verifiano una partita tranquilla, penso ci siamo divertiti un po' tutti, il risultato secondo me è un risultato anche giusto a livello che si è visto sul piano di gioco, ci sarà qualche rimpianto, qualcosina in più magari si poteva fare però insomma, si è scelto di fare una partita, siamo stati a zona, secondo me si sono messi abbastanza in difficoltà agli avversari che magari non sono abituati a giocare contro una difesa del genere e niente, prendiamo questo punto, ne facciamo tesoro e si porta a casa Perché avete usato anche mettere il quinto uomo in campo? Si è messo anche il quinto uomo in campo, è servito perché comunque sull'ultimo tiro essendo in superiorità numerica, io che ho tirato ero rimasto da solo quindi penso sia stata una scelta giusta dell'allenatore, è andata bene così Grazie